signore e signori buonasera dal teatro abc di catania va in onda di nuovo insieme presenta salvo la rosa buonasera bentrovati buonasera bentrovati grazie per il vostro affetto ero dall'altra parte perché come sapete già dalla scorsa edizione questo programma lo realizziamo a casa mia quindi per me anche abbastanza comodo nel senso che non mi sposto da casa qui vengono a trovarmi il signor Litterio Scalisi tanti amici tanti personaggi di questo programma vi dicevo una sorta di smart working un po' diverso un po' particolare per cui mi sposto da una stanza all'altra e poi in questo salone che è il salone di rappresentanza per così dire avviene un po' tutto il contenuto di questo nostro programma e oggi avremo ancora altre novità siamo arrivati alla tredicesima puntata per cui vi devo ancora una volta dire grazie perché sia su TGS che su RTP stiamo ricevendo molti riscontri quindi applauso a tutto il nostro pubblico a quelli che vengono a trovarci qui al teatro ABC e a tutte le persone che in ogni angolo del mondo ci seguono anche attraverso lo streaming, attraverso i social e attraverso i siti dei nostri giornali giornali di Sicilia e Gazzetta del Sud grazie, tuttutu cori, grazie e allora di nuovo insieme questo è il titolo del programma anche se sapete che proprio all'interno di casa mia noi stiamo creando un programma puntata dopo puntata il protagonista, ve l'ho detto prima ma lo sapete già, è lui il signor Enrico Guarneri Litterio quindi tra un po' lo chiamiamo, mi serve il vostro aiuto al mio tre fate partire un grande applauso perché arriverà da quella porta signore e signori Litterio Scalisi buonasera signora Rosa ora penso che lei è contento no? che mi finivo cacciacato il giornale, sarà contento ma sono contento perché avevo bisogno di leggere qualche notizia a questo mi ha riduciuto lei signora Rosa che c'è bassa ma larga non possiamo stare non ci possiamo toccare, non ci possiamo abbracciare comunque ho preso tutti i giornali ha fatto bene a stampa con allegato a stampello il cazzettino di Padova ma che è il cazzettino di Padova? la mazzetta del mezzogiorno la cazzetta del mezzogiorno il Corriere della Fiera il Corriere della Sera e il matto quotidiano tutto a caso il fatto tutto a caso il fatto sì era già bello e fatto, lo trovai pronto vabbè vuole cominciare a leggere no guardi così si passa lo tempo no guardi signor Enrico le chiedo una cortesia siccome non ho gli occhiali da vicino non riesco a leggere se per favore me li legge lei non riesco a vedere non ci vedo da vicino non ci vedo bene Maria ma caro orbo canario ma come? ma come se è un ruduccio ma che c'è campo a fare? ma perché? scusi se le ho detto che non ho gli occhiali da vicino basta perché non si sopprime ma perché mi devo sopprimere? io sto benissimo guardi non soffre manca un secondo ma lei dice? ma cosa ti fa? se lo ci leggo io me li leggo a lei se è possibile se lo leggo io che hai una vista signor La Rosa se io che ho 100 carati per ogni occhio mi creda che potessi vire magari i formicoli di lontano esagerato esagerato io mi credo a me mi sono sentito l'aquilotto di due paesi e c'hai una vista davvero magari i formicoli come a me cucinano Alfio perché su cucinano Alfio vede le formiche? la prima volta che ho preso l'aereo Alfio io ero la quarta o quinta volta io ero la prima volta come se non è montato l'aereo signor La Rosa io ti ho detto di loibò blo 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 de loiblo no blo o blo ah guardate lo blo si la finestrina poi lo blo sarebbe più per la nave e mi dice talia letteri talia cristiani quanto sono niente parlo formico attenzione che andai una scopola a suo fuggino se chi è il suo formicolo è per davvero ancora ma parte siamo fermi va bene va bene lasciamo stare perché siete sempre voi due va bene comunque mi legga qualche notizia così almeno ascolto quello che c'è scritto sui giornali io non lo so io non lo so ma non male che lei ci vede cento carati questa qua è di bellezza sì di bellezza certo invece la mia è di freschezza lasciamo stare prego anzi che non ci metto non mi metto chi di dindisa anche quindi non ci sente che c'è dunque allora notizie ecco io sapevo che sta qua ma immaginavo questa cosa finalmente finalmente il vaccino contro il covid 19 è stato testato dagli scienziati russi purtroppo però tra i vaccinati si sono riscontrati alcuni difetti collaterali collaterali dolore di testa testa pazza testa coda testa dura testa daggini testicolite testimoni di geova secondo me è stato troppo testato troppo testato sì speriamo che lo testino bene c'è una notizia curiosa signora Rosa curiosa cuzzularo catanisi non trovando più telline alla playa di catania si trasferisce in valtellina con la speranza di trovare lì qualche tellina ma dai o lo bestia la piscaria si andava a ghiera in valtellina che trova le telline in montagna io lì se non trovavo chi vuoi chi vuoi uno si andava non deve stare è certo giusto legga ancora legga sport il Barcello il Barcellona Barcellona il Barcellona che è un bar dei super dotati ma che dice il Barcellona è una squadra di calcio spagnola il Barcellona dopo aver preso otto gol da Bayern Monaco è volato direttamente in Spagna in volo il suo presidente ha dichiarato ha dopo questi otto gol siamo cose di otto volanti giusto Leo Messi ha dichiarato mestamente siamo messi male eh certo che non conosci Messina senza squadra va bene scienza questo è interessante l'organizzazione mondiale della sanità della sanità sanità dopo una lunga estenuante mi sta facendo venire lo scomporto e costosissima leggi è troppo veloce no no leggi in maniera frammentaria estenuante e costosissima ricerca si è posta la seguente domanda vediamo l'OMS l'OMS organizzazione mondiale sa volarosa no no non è che lei ogni esse che vede deve dire che è organizzazione mondiale della sanità la domanda è ma a un pompiere ci può abbruciare un stomaco non lo so ma che domanda è appunto che domanda viva i vigili del fuoco poi se le legge lei poi se le legge lei lei faccia una cosa la prossima volta compri il giornale di Sicilia o la gazzetta del sud che sono i nostri giornali che sono sicuramente più chiari giornale di Sicilia e gazzetta del sud siamo a casa sua mai che mi offre un caffè mai che mi offre un birtivo mai che mi offre una cosa guardi se lei va dall'altra parte va in cucina e si prende quello che vuole guardi proprio qui dietro c'è la cucina ma quale l'altra parte perché appena lei esce di là non c'è niente c'è su tenda tavola a dita ma che sta dicendo ma quando mai questa è casa mia questo è il salone ma qua la stanza è tu da questa parte è la stessa cosa c'è su tavole vecchie a via tendere non sapo mancava la sua casa come è fatta giri meglio per casa mia e si renderà conto a proposito a casa mia come detto c'è anche una bravissima collaboratrice che viene tutti i giorni per darmi una mano per realizzare al meglio questo programma anche oggi è protagonista della nostra puntata la chiamiamo insieme la signorina Nadia De Luca buonasera Nadia buonasera dottor Larosa signor Viteria buonasera signorina Nadia buonasera è un piacere vedere Nadia perché è sempre gioiosa è sempre piena di entusiasmo quando arrivano le donne bisogna stare è vero buonasera signora grazie signor Viteria buonasera e poi mi riassetto è un gentiluomo allora Nadia mi dica c'è qualche novità oggi? beh mi è venuta un'idea fantastica aprire un nuovo programma come sempre come sempre brava mi dica beh è un'idea semplice che la produzione costerebbe poco allora guardi se è una bella idea e costa poco alla produzione piacerà di sicuro perché andiamo sempre a risparmiare prego allora immagini che ci sia qualcuno che vuole ritrovare che ne so un parente un amico che non vede da 20-25 anni ci scrive noi troviamo la persona che sta cercando e li facciamo incontrare in televisione che gliene pare? insomma è una bella idea è bella è bellissima solo che mi pare che aveva qualche 25 anni che fanno questa trasmissione in effetti signorina Nadia questa stessa trasmissione l'ha fatta Raffaella Carrà lo ricordate 1995 si intitolava Carramba che sorpresa bravo bravo Carramba che sorpresa così si chiamava beh noi ci saremmo occupati solo di casi umani siciliani casi umani siciliani per esempio che cosa? perché questa italiana è mia signorina Nadia non lo so ha detto casi umani siciliani è giusto io sono umano sarebbe stato emozionante vedere due persone che non si vedono da 20-25 anni che ne so magari un emigrato siciliano che è partito al nord e ha fatto fortuna e viene a incontrare un suo vecchio e povero amico rimasto nell'indigenza in Sicilia è tra l'altro tutti e due amici no 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 casualmente io stavo ascoltando la signorina Nadia e poi mi sono rivolto a lei comunque è giusto perché io sogno umano sono un caso e divendo caso umano sogno siciliano quindi quindi può andare però sapi che sto pensando che una cosa del genere a mia mi è successa a lei due paesi circa chissà 30 anni fa aveva 18 anni quando partivo Bruno se ne ho mi pare a Milano in continente e poi dopo 30 anni tornavo ma io quando ho visto allora facciamo a questa maniera visto che la storia è bella intrigante emozionante anziché raccontarcela come sempre ci faccia vedere quello che è successo e allora signore e signori Litterio caramba che sorpresa sto andando per i Bruno Leti Bruno ma se tu come stai ma come si si può abbracciare non potete buttare manca dammi una gometata dammi un pugnetto come stai da quanto tempo non ci vediamo ma quant'ave che non ci vediamo sono passati perlomeno 30 anni che 30 quando stai 30 anni ma non mi ingiapparli ora viva Milano ormai ah viva Milano ormai ma come stai oh a 7 vediamoci so che a Milano ti sei piazzato piuttosto bene tu eh ah si benissimo adesso sono diventato un magnate dell'industria bravo che cosa ho fatto ho aperto una fabbrichetta 40 dipendenti che si chiama tutto bene figli e tu hai la fabbrichetta no io c'è su lì figli una femmina ah si una femmina si una che fa per 12 e come mai per 12 capi che sono così scemo che manco dopo c'è figli a fare 13 ma senti una cosa come si chiama la bimba fiamma fiammetta fiamma ma che nome è fiamma è un nome che praticamente il veterinario quando ha figli a nascere un veterinario sì prima si impressionava poi appena si rilassava attaglia ma adesso mi ha messo si andava a bruciare ma si può bruciare una figlia eccetera e allora per ricordarmi il consiglio hai chiamato i fiamma hai fatto bene hai fatto bene sai perché perché i figli danno preoccupazione tutti i ragazzi l'adolescenza da preoccupazione tutta l'adolescenza tu pensa che mio nipote è un nipote che vive a Torino studia al Politecnico di Torino Ingegneria terzo anno io c'ho il nipote a Palermo sta facendo il terzo anno di cacciare e danno problemi a Pagliarelli e danno problemi ma senti una cosa raccontami un po' tu sei sposato una moglie come no c'ho una moglie io penso ti confesso una cosa in 30 anni ho cambiato tre moglie tu hai una moglie io ce n'ho una che fa per tre tu i 30 anni ne hai cambiato tre io ne ho una in 30 anni che fa per tre tre per 30 90 io tre per 30 90 i conti tornano sei sempre il solito il mattacchione anche io ti abbracciassi ma c'è il distanziamento sociale c'è il distanziamento sociale però sai che ti vedo bene ti vedo bene mi trovo veramente molto bene di forma sei molto tonico tonico massa grassa a cantarella a cantarella a cariola Cristiano Ronaldo CR7 sei duro duro come una roccia che sogno appendato anche se mi trovi un po' così perché sono un po' flaccido sei flaccido e se sai il mio lavoro mi porta sempre fuori vati al computer stare sempre conferenze call sempre parlando con l'Egitto Medio Oriente e poi le cene quante cene e i pranzi e certo cena abbiamo il sushi l'aperitivo l'apericena e pranzi d'affari pranzi d'affari tu fai pranzi d'affari no io in affari se faccio un pranzo non è tanto capisco ma fai bene fai bene perché ti tiene in linea anche il mio dettologo me lo dice mi dico Bruno ora devi andare via da quella casa devi cambiare aria change air change your life capisci te ne devi andare da casa te ne devi andare andare via via ma cara mia me lo dicono te ne chiedi di questa casa via 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 smammare quando te ne vai di questa casa te lo dice chi il tuo medico no no maurico bacione di casa è giusto sì sì bacione di casa è una persona intelligente intelligente ma tu sai perché te lo dici non lo so perché è una questione d'affetto no è una questione d'affitto come avanza si ricimisi ma io non è che io ho tutto scritto in due calendari io aspetto che arriva a dicembre appena arriva a dicembre e piglio il calendario che ho detto ma sei sempre il solito ma tecchione simpatricone ma quello non è un problema sai io per esempio per ovviare al problema io ho due ville number two certo io ho una villa in Val d'Aosta prendo un'area di montagna e un'altra in costa azzurra lo io odio fa bene un mare un mare e montagna sei mesi in una sei mesi nell'altra tu hai due ville sì io ce l'hai due ville magari però io ho uno stesso giorno vai mi insegnate una banna mi insegnate una banna la villa Bellini e la villa Varaglia io mi divido tra le due ville hai perfettamente ragione sei soldi diamoci il fognetto Litti sei un grande che è 30 anni come è cambiato tutto cambia tutto ma sai perché è una questione di soldi è una questione di soldi in tutte questioni di soldi voglia parlare di soldi parlamene almeno parlamene tanto non costa niente ma guarda è semplicissimo il discorso economy tu hai una banca hai il tuo denaro un monè il contatto è la banca cosa ti dà la tua banca la mia banca non mi dà niente in che senso niente non mi dà niente scusa se non ti dà niente fai un changing finanziario fai una translation prendi il tuo denaro lo porti via e io lo volevo portare via e l'IDI non me l'hanno impedito e tu hai sbagliato hai sbagliato ma perché non chiami la polizia capi che l'ho chiamato l'IDI prima ah sì e ci ha pensato io passavo un d'anno col giù mi chiamavo questo tabbo l'amma delle mie suocere hai capito ma sì ma non ti devi abbatto no non mi abbatto io non mi abbatto devi provare a cambiare a rinnovarti a cambiare la tua vita change your life energie rinnovabili ma i brd dalle energie rinnovabili certo per esempio fonti di energia alternativa esatto hai presente per esempio il gas ecco buttati nel gas veramente stavo pensando di buttarmi in l'ammunizia come in questi giorni proprio ero convinto il gas è importante sì certo i rifiuti l'immunizia bravissimo hai detto bene faccio bene a chiamare l'ammunizia ma certo perché così dai un cambiamento change air cambia l'aria con l'aria d'ammunizia ci posso fare concorrenza a chi le do gas e all'espurgo pozzi neri e a Milano che respirano l'aria io ma perché noi per esempio a Milano noi facciamo la raccolta differenziale abbiamo un sacchetto diverso per ogni tipo di pattume sì noi la facciamo indifferenziata ma in una busta sola ma scusa ma allora che differenziata è se in una busta per esempio vetro plastica organico no no una busta e la facciamo indifferenziata stesso perché è così io non sa potono indifferenziata io amo il tuo modo di filosofaggiare se è così una persona aperta open your mind bravo così dovrebbe essere amico mio amico mio è certo anche perché io sono leggermente preoccupato io sono leggermente disoccupato momentaneamente da 30 anni ma Litti questo non è un problema ah no ma no le cose si risolvono amico mio la disoccupazione non esiste è una questione mentale fai un concorso ah no certo una persona con le tue chance ce la fa superare che qui hai che qui hai no io non c'hai a qui c'hai esicendo no no dico che qui cos'ente intellettivo alto alto lo dice signor La Rosa che è laureato io ce l'ho alto solo che piego un gosse ci vogliono le portate ma perché si mangia è come c'è che ci mangia fino più paghi più possibilità di superare il concorso chi sta adesso capisco mangiare perché in Sicilia la roba è sempre uguale la mentalità è sempre uguale perché voi avete l'acqua in bocca no no acqua in bocca non ne abbiamo non avete acqua no acqua in bocca non ne avete no no acqua in bocca non ne abbiamo eccetera perché avete paura come avete paura no 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 c'è no paura ce l'abbiamo certo no non abbiamo acqua in bocca perché non c'è l'acqua ravi rubinetti acqua non ne esce per questo non abbiamo acqua in bocca quindi acqua in Sicilia zero se Ponzio Pelata avesse nasciuto in Sicilia a quest'ora non avessimo servato a Gesù Cristo un slavare mano chi do hai capito capisco amico mio è giunto il momento di salutarci ma non tanto di lavoro una preoccupazione come ti diceva a casa c'è mia moglie in ospedale adesso prendo il mio jet privato vado in aeroporto ho già fatto il piano di volo e arrivo tac arrivo col jet subito l'airbus hai presente l'airbus si l'airbus tu ce l'hai l'airbus no no tu a dire all'ospedale no io prendo l'autobus piglio non l'airbus ah capisco l'autobus è spazio di scapocchio picchi biglietti non ne ho è questo sbaglio è questo sbaglio senso civico zero zero mentalità sbagliata se ti pizzica se mi pizzico non mi ammazzo una coppa è comunque mi mando in ospedale un solito mattacchione ti saluto Alitti ci vediamo presto ciao Bruno ciao Bruno che figlia che ha visto ho 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 visto allora facciamo a questa maniera fermiamoci un attimo diamo la linea alla regia e poi torniamo torniamo di nuovo insieme perché abbiamo ancora tante cose da raccontarvi sempre molto divertenti regia a tra poco di nuovo insieme su TGS e su RTP sai cosa stavo pensando signor Litterio che cosa signor Lorozzi che comunque l'idea di fare un programma in cui ci si ritrova tra persone siciliane mi sembra veramente molto bello un caramba che sorpresa in salsa siciliana mi piace io sono d'accordo signor Lorozzi se fosse per me lo farei subito 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 e a me mi piacerebbe fare chi do che ricerca le persone disperse chi disperduti dispersi lei vorrebbe fare il ricercatore ecco il ricercatore vorrei fare lei farebbe in qualche modo mi piace pensarlo da tre d'union tra due persone scomparse che poi si ritrovano lei piace fare il tre d'union come signor Lorozzi mi faccia pagare 31 giorni signor Lorozzi e come è possibile non ammisi almeno le domeniche me la deve lasciare libere me la stasse libere domenica e il primo di maggio non mi vuole lasciare guardi il primo di maggio glielo lascerò libero sicuramente anche perché mi ricordo che il primo maggio anzi come si dice alle nostre parti la prima di maggio di qualche tempo fa lei ha avuto una piccola disavventura piccola quindi ce la racconti perché è stata una cosa clamorosa una cosa di 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 buttare sei stampe perché il giorno prima del primo di maggio venne a trovare venne a trovare a Sosoro la la sorella della moglie di mio cugino Alfio mi spieghi meglio allora io ho un cugino che si chiama Alfio e questo lo sappiamo Alfio Scalisi e io Litterio Scalisi quindi siete cugini cugini di primo grado figli di frate e frate assolutamente Alfio un bel giorno anzi un brutto gioco che si maratò e beh perché poverino si è sposato e perché si maratò con la sua moglie e certo che prima di essere sua moglie qua la conosceva e beh certo lei non la conosceva appena si maratava a mio cugino ma vedi cosa da matematica appena si maratava mi chiede un'altra mia cucina e certo automaticamente che si chiama cugina acquistata no acquistata non è che si compra sì 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 acquistita 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 mi fa confondere anche a me questa graziella che poi ha detto tra di noi che è un po' buttanella non lo deve dire anche se è vero lei non lo deve dire ma la rosa è vero a mia Maurizio Nicanne non ne parliamo non ne parliamo infatti prendiamo un pelo veloso su questa cosa stenda quello che vuole un pelo veloso un velo pietoso quello che le pare sì questa graziella c'ha una sorella che fa ma cari rima questa graziella c'ha una sorella che si chiama Teresa Teresa questa Teresa è parente me ma cari perché è la sorella di quella acquistita siamo in realtà qualcuno che si chiama Tonino e vivono a Torino quindi che io non sono residenti in Sicilia no no a Torino io io non sono residenti a Fiat il giorno prima del primo di maggio il 30 di aprile chi si scendero e scendero Cotreno marito Tonino Teresa e due figli ma lo sanno questo Tonino non saranno simpatici no no dal primo Ido Ido è simpatica poi sai è bello beh fermo allora per questo le piace a lei la signora le piace perché non mi vergogno il dito è ben messa la signora si io invece andavo con la puzza sotto il naso come scendero a treno da stazione di Catania la tagliavo come se c'era una baracca come si era abituato ad altre cose sono abituati a stare al nord cose più grosse costituzionali io ho scenduto a prenderlo io ho scenduto a prenderlo con il mio cugino e ho scenduto le valigie io le sa già con la sua moglie e che siamo i facchini questo non è giusto questo non è bello non è bello questo ha ragione le valigie le abbiamo raggiunto ti facciamo strada per uscire dalla stazione ti sono dappato la faccia le valigie e questo man mano che camminava passava andò a barra dalla stazione ecco lo sapevo i bar sempre pieni qui al sud sono le undici del mattino dovrebbero essere tutti a lavorare e invece si mangiano la granita con la brioche ma che cosa fate qui non lavorate mai a mio sangue già mi cominciavo a bucare devo dire che ha ragione a ruo io ho parcheggio non avevo la stessa macchina perché le valigie chiede come a ruo e dice ma questo è il tuo mezzo ma quale mezzo non avere caissana ma certo una macchina bella scherziamo scherziamo ma certo poi lei ci tiene quella macchina in maniera straordinaria mi tocca la famiglia che mi insulta la mia moglie e mi fa piacere no no ma non mi toccarà la macchina che divento un selvaggio no neanche quello un selvaggio vabbè vabbè poi ci abbrichiamo dei valigi mi sono sul portabagagli siamo a mettere il portabagagli che apprezzavo apprezzavo l'estetichezza della macchina il portabagagli non è bello no io ci ho fatto tutte tucci aprile s'ammucciavo completamente tucci aprile no aprile basta abbiamo i valigi da sopra e acchianiamo io e Alfio i due sono i miei e i due piccolini se mi sono da rire ma acchianiamo camaniamo guarda le strade le strade sono tutte piene ma si lamentava si lamentava si lamentava antipatico io posso capire i ragazzi che sono in giro ma qui vedo gente di mezza età al sud non lavora nessuno lo saprei io cosa fare questo sud che si mangia i soldi che noi del nord produciamo se mi appoggiavo upusucca ci andavo il sangue che ribolliva noi a Torino pensiamo solo al lavoro lavoro a lavorare tu a Torino ci dai un pezzo di ferro un pezzo di gomma e in 448 ti facciamo un'automobile questo è vero che andai una frenata mi girai se vedo guarda che a noi qui a Catania ci dai tua sorella e in 448 ti facciamo i passeggeri ma no ma no con te vi te raccuciavi in quest'automobile tu guardi non è una cosa bella quella che lei ha detto però ci sta era troppo antipatico troppo antipatico fermati che c'è il giallo perché tu del meridione col giallo passi dai vai rallenta che minghè sto lì segnala no né un intercalare che utilizzano soprattutto in Piemonte al nord un intercalare sì un intercalare come se fosse una punteggiatura loro mettono la virgola il punto né tra una parola e l'altra non la facciamo sì è un'altra cosa e qual è quella si può dire ah sì che le cadico io intanto e lei vuole mettere un goppo di un cunne esatto non lo dica non c'è paragone ognuno dice ognuno dice quello che vuole dire il nostro il nostro è più colorito no la tragedia quando nasce signor Rosa la tragedia nasce quando questo siccome a casa di Alfio è più piccola gli stupi che la può ospitare io che hai a casa rannico certo lei alla casa grande al paese è chiaro hai usuto hai usuto perciò e basta l'abbiamo dovuto ospitare quindi non solo lei l'ha dovuto sopportare ma se l'ha dovuto portare dentro a casa si sentiva tutto raffinato si sentiva tutto delicato si sentiva tutto che pareva pareva dalla corte di Luigi quattordicesimo ma quando mangiava mangiava come un porto ah ecco quindi diciamo che si dimenticava tutto tutto e mangiava la quattro ganasce di una rosa basta lasciamo perdere coi avechi sali quanta minestra tanto più oscuri mezzanotte non può fare tanto va a guardare all'acqua fino a quando si rompe e dobbiamo dire tutti no 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 ma uno che ci sta però si va bene sicuramente basta l'indomani primo di maggio piglia partiamo per andare alla solita scampagnata che noi ci facciamo nella zona di sferro da Piana di Catania esatto chi è catanese sa che proprio la Piana di Catania ha una zona che si chiama sferro di campagna bello aria pulita e partiamo io casa dicendo e Alfio si portavo a macchina a Lapa perché stavolta c'era Alfio con sui mughieri sui due poi c'era Cirino il figlio di Alfio e Filadelfo che è il figlio di Cirino il nipote di Alfio ho capito quando siamo tutti riuniti vengono magari i devoti che è Cirino Alfio Cirino e Filadelfo sono i tre santi martiri si spaggiavo ciò che c'è C'è Cirino e Filadelfo ma dico però ora io vorrei entrare nella mentalità di questa famiglia ho capito la devozione per carità però se uno si chiama Alfio il figlio Filadelfo Cirino quindi erano Alfio sua moglie il figlio di Alfio Cirino e Filadelfo e Graziella io ero con mia moglie Fiammetta non c'è perché lei lo sa che lavora in Olanda quindi c'era io e mia moglie e diventavo sei e poi c'era un torrenese con sua moglie e due figli e sono dieci dieci cristiani ne messo cinque in la macchina e cinque in la labbra in la labbra se ne messo due in la cabina i piccoli ne messo dietro due cassone che si è già attaccati usavo come arrivare arrivare a Chiana a usulazza perché a balleriavano ogni curva capigliava chi di cabana passava a cabana chi di cabana le sedie le sedie erano attaccate ma io no ho capito i bambini erano liberi scopolavano e quando c'era bocca quando si incontrava una metà strada andavano unite e certo poveri bambini si può immaginare comunque arriviamo a Sferro a Chiana di Catania al solito posto troviamo il massaggio a livello di una proprietà ma che è il massaggio a livello il passaggio a livello che è il massaggio una cosa fisica massaggio a livello il laureato non è che sono laureato io cerco di essere preciso ma che lei che mi vuole umiliare ma che umiliare lei con me non si deve vantare ma non mi vanto lei atti di vandalismo con me ma non ne faccio atti di vandalismo sono atti di affetto comunque c'era il passaggio a livello c'era il massaggio a livello calato sta sbarra calata cacatina io ho catarazzo già lo sapevo perché ogni anno poi ce ne avevamo portato a tronchisse ma no è proprietà privata perché va bene io prima di maggio non è che il primo di maggio è tutto lecito anche quello che non si deve fare se adesso mi un goppo di tagli non ti paghiamo la catena e siamo a sbarra ci miso una pedra quando gli due non se ne calavano più siamo entrati signale Rosa e ci abbiamo a dire questo è bello abbiamo percorso tutto sto vialone dove c'erano tutti i giardini lì arance lemone c'erano tutti gli alberi a poi arrivavamo una distesa c'erano tutti i pedra d'alivo e mi sono andato a mezzo agli alberi bravo che bello c'era tutto un campo di orto che bello c'erano roccolo bastardo cose melanzane peperoni ma non è che si può giocare a pallone con una persona infatti c'erano che fai sta scherzando scusa io cucina ma stavo cucinando a due momento basta poi ricomaravamo poi lui non la divertiamo poi non c'erano non ho scordato la carbonella ma come tornavamo in campagna a fare arrostare e mangi e ti scordo la carbonella è fondamentale ci andavamo 4-5 alberi d'olivi ci sceppavamo il rame signale Rosa i pabini pigliavo a fuoco subito subito poi ci miso le linee insomma abbiamo passato una bella giornata ma certo avete fatto atti di vandalismo veramente avete distrutto tutto state di giornate che tu dici ecco ora potessi ma cara morire ho passato una bella giornata sono contento per questo ho portato un poco di cose io devo fare un pasticcio bellissimo buono una teglia tanta così che dà d'alluminio ci mette uno strato di grasso di sotto di lardo di 3 cm poi ci mette uno strato di maccaroni in bianco buono essere leggeri poi ci abbia certo i maccaroni sono leggeri e quello che c'è sotto che è un pochettino più pesante poi ci abbia strato di munigiane fritti avete capito e di sopra uno strato di muttatella siccome la muttatella è salata per equilibrare ci abbia strato di tanto di ricotta anche leggerissimo poi ci abbia un ragù poi rompe dieci uova e ci abbia da su la rosa e avvicano a fumo e che mangi? e che cosa mangi? intanto ti arrivi a mangiare poi in 92 finisci a ospitare certo è chiaro però ti arrivi a mangiare poi buttiamo la canna arrostiamo salamariche dice le mie cose basta alla fine di questo pranzo meraviglioso che mi amava uno cascarimai mi venne andate io queste fantasie e fareci scherzo a Alfio scusami Alfio ci piace un grappino non so se neanche a lei ci piace un grappino dopo pranzo io preferisco l'amaro però il grappino ci sta per digerire per bruciare il grappino bianco bianco non chi do giallo chi piace chi do bianco quello bianco io prendi la bottiglia della grappa io faccio scherzo però devo dire che non so che scherzo l'ha fatto adesso cerco di immaginarlo però ci può stare primo maggio allegria guardi la bottiglia della grappa quella piccolina la grappa che ti buona e ci misi l'acqua 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 penevo di mangiare c'è sì Alfio vado a che portai la grappa che ti piace a te io sono contento magnifico magnifico prendi un bicchiere che c'è birra la grappa distribuì ma caralà ho detto salute salute saluti vado a sabbia di un bicchiere di grano come si vive che era acqua che ci aveva pensato che cosa abbattiavo tutto con l'acqua diventavo violaceo che bolle prima formacchia poi ci unghia diventavo con l'occhio nero nero poi diventavo russo 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 con l'occhio bianco 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 affio è fortissimo ci aveva pensato affio fortissimamente allergico all'acqua alfio è allergico all'unica cosa che non fa male in nessun modo alfio vuoi ammazzare tu dacci un bicchiere di acqua cioè birra sì grappa sì vino sì acqua no acqua niente ma che muovi sono io la puo solo toccare non la puoi ingerire non la puoi ingerire io dico se non va a mare si bagna scinde si bagna fino a casa accadono i pisci morti do feto noi li ricogliamo perché questo noi andiamo a pescare con l'alfio quale pepo quale canna quale cosa ah non ve ne portate canna no ne portavo fino a sette andò a bordo cala i pedi metta a morro è questione di una parata minuta aspettavo pum pum cacchadono i pupi cacchadono tutti i tipi di pisci i pedi di affio sono un'arma chimica fanno schifo fanno schifo una volta avevi cosette scicate avevi cosette nivore e l'aveva scicata da un carcagno perché si capiva no perché la carne era lo stesso coloro delle cosette precisi ho capito quindi questa è buona però portatevi alzio a pesca gli fate mettere le gambe quando si dà i galugni affio i piccirini di mano va a casa sì perché perché patto non scheggi ho capito cosa è pericolosa che fa biciputare si fa chi deve putare l'acqua che schifo uomo si viveva d'acqua per picchiare casca e comincia a sbattoliare tutto ce ne esce a schiuma ma ammazzastro ma ammazzastro ma ammazzastro perciò subito ce l'ho a camisa perciò a carico tutto paloso il pilo non do pentono da panza il pilo decida tante madonna capo a fare presto facciamo qualche cosa mia meno male santo telefonino eh sì telefonino ci aiuta sei usato bene non sapendo che cosa fare signor la rosa perché insomma è zaurdo ma è sempre mio cugino il sangue parla il sangue parla mi ha chiamato il 118 mi rispondivo guida ci sei presto di corsa corrita se macchina da catania si macchina da catania un ci sa sferro dice si ma sferro è enorme ci sa sferro come lei supera poi piglia trovo massaggio a livello sollevato cacati da rutta in terra segui via basta effettivamente devo dire che manco passarono tre ore e mezza a rovare ma prima che arrivavano prima che arrivavano noi ci abbiamo messi a parlare lo frattemmo dalla telefonata insomma pessimo di vista ad alfio come insomma dietro un cespuglio abbiamo lasciato lì quando finì di telefonare stanno venendo mi hanno detto che stanno arrivando presto buttiamoci un po' di acqua non ho acqua basta lo ammazza facciamoci la respirazione ci avviciniamoci era chino 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 di fumito ma certo l'avete abbandonato a terra lì i fumicoli c'hanno acchianato d'un gordo a acchiana c'hanno sui fumicoli tanti ma lo so ma lo so ma lo so c'hanno sceppato ma c'hanno la cintura c'hanno raputo i pantaloni non sapendo che i fumicoli s'abbiano tutti ma lo avete abbandonato lì povero uomo in mezzo alla terra ammazziamo ste fumicoli gli ammanati ammazziamo gli tumulate su un corpo di alfio gli pugna ne spuntavano cento ma scusi ma che modi sono che introputtoso d'arino anche tutto pieno i fumicoli s'ostavano portando la fia pisa 97 kg si vedeva che a camera palle ce leggi i fumicoli s'ostavano portando ora io capisco che le fumiche sono laboriose le fumiche sono anche resistenti ma portarsi un uomo che pesa così tanto la fumica si porta tutto cosa allora meno male che a giù un momento mi viene una pensata che io mi faccio paura esatto perché lei avevano coppie di intelligenza mi faccia dire una cosa perché è importante perché lei sembra sembra una persona inutile sembra un cretino sembra una persona che non riesce ad agire grazie per le parole no io le dico cose vere che sento però in fondo sembro un cretino però in fondo però in fondo lo sono ecco perfetto e cioè in quel momento mi viene a pensare l'applauso che parte il pubblico conferma grazie che è pensata lei è venuta ti chiedi un voglio di giornale un mucchiaio lungo 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 un giù mai di un lato con l'accendino no 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 come un giù no signora Rosa ci passai d'ingosio e di fumicoli come murivano ma certo e come scappavano ah ora si che è venito ci ha bruciato tutti i pila ma certo si ricordi sempre che le formiche non erano per terra erano sul corpo di alfio ci ha bruciato tutti i pila dopo erano in degli organi genitori anche i kiddi non ci pigliavano a fuoco niente niente resisteva la ricchia vicine ai capiti certo tutto ustionato ma una formicola non ce l'aveva più ma povero alfio non l'aveva più non l'aveva più manco finisco da bruciare tutte le formicole piglia indissima la serena ah 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 finalmente dopo tre ore e mezza ma giustamente eravate in piena campagna a sferro in un posto non ci trovavo dimenticato dal signore quindi vabbè come arriva alla fine mi hanno trovato arriva quest'ambulanza venga si girava ah 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 e avvicinava un macchia indietro giusto giravo un sportello e scendivo uno uno un'ambulanza solo con l'autista uno solo come era il primo maggio forse avevano troppe chiamate non c'avevano i medici ma era questo questo era tanto tanto piccolino per scendere dall'ambulanza a paghettare un'auto da così certo piccoletto così in italiano come puoi dire ci pare che mi scendere oh boom certo perché era altissimo per lui aveva una testa che era tanta il corpo gracile la testa tanta se non stava a piombo preciso come la testa ci prendeva dal lato cascava in terra ho capito pareva il colino sempre in piede un po' strano fisicamente questo come scendivo la prima cosa che ne disse oh vi avverto subito dici tamillo parlate chiaro se c'è sangue non mi posso avvicinare che mi impressione ma come ma come un soccorritore un soccorritore che ha paura del sangue che ha paura del sangue uno solo uno solo sparte perché ripete la cosa che dico io finalmente sta dicendo una cosa bene o male grazie non è possibile ma sto dicendo signor Litterio quello che avrebbero detto tutti cioè tu mandi un soccorritore per prestare soccorso ad una persona e si spaventa del sangue e si spaventa del sangue comunque se guardi sangue non ce n'è non ce n'è se vuole può avvicinare sicuro perché sono impressionabile non ce n'è non ce n'è sangue amico mio non ce n'è questo si avvicina appena si avvicina e vi stai assi tutto bruciato è certo che i pila tutto bruciato è certo i pila d'acido che ancora ci fumavano perché tanto era l'incendio che i due sabato di formicoli che erano tutt'attorno tutte morti inciavano di carne bruciata che lei e pila bruciata che lei non ce n'è può immaginare chi sta appena visto disse che cos'è sto posto che cos'è mi stai sentendo male mi stai sentendo male che cos'è la mummia che cos'è e svenivo il soccorritore che doveva prestare soccorso è svenuto l'abbiamo dovuto appoggiare per terra ci sei presto pegliato in bicchieri acqua qualche cosa io dico no è acqua ormai siamo impressionati niente acqua e allora io saccio che l'hai visto in dei film che per farli rivenire quando uno sviene per farlo rivenire c'è aceto l'aceto l'aceto serve è vero si rianima ci sei croci presto portano chiamata croci croci si no ho fissa non mi ruolo come si chiama croci fissa questa croci presto porta di corsa un poco di aceto poi ti ho creatura di corsa con gli emittini con il re che corre così è peggio che cammino ma non si dicono io mancavo due minuti tornavo capantaciata avevo fatto 8 metri si è stancata mi disse amore non mi chiamare amore quando potete lo dammi chiamare amore ho imparato anche io crocifissa mi chiamare amore l'aceto non c'è come non c'è mi chiamare amore mi chiamare amore un po' di salmariglio perché lo spandiamo tutto per fare il salmariglio il salmuriglio il salmuriglio il salmuriglio no che è il salmuriglio in italiano come si dice salmuriglio non si chiama salmuriglio basta ci si poteva il salmuriglio buttavo il salmariglio io rimanavo tutta la nicchia avevo un ramoscello di origano si giusto lo passai l'aceto c'era era mescato con l'oglio era mescato con il sale e ci passai sotto il naso e come ci passai e c'è senza aprire l'occhio non esceva la lingua non ci posso credere e a forza è un po' liscio perciò pegate un po' di sale ma come c'è questo signore io voglio fare una piccola riflessione questo signore che era venuto per prestare soccorso ha detto se c'è sangue non me lo fate vedere per fare l'impressione è svenuto e perciutto ha detto manca il sale un po' di sale perché io ci ho messo un po' di sale se torniamo a passare non è buono meno male non faccio una fiducia di carne caura caura anche ci sono croce le città le città è un po' sopra la riga aspetta che la piglia la piglia la mi sono piatta la spezzettiamo perché in quelle condizioni come c'è tu non hai fatti di carne c'è bisogna assisterlo l'abbiamo spettato e dice non ci posso credere non ci posso credere non ci posso credere non ci posso credere noi ci abbiamo ma staccava stacca là ma staccava stacca là ma staccava e non si mangiava mezzo chile di carne i due suoi quindi veramente incredibile incredibile veramente allucinante sempre con l'occhio chiuso perché capivo e dice ce l'ha visto tu piracocca che mi piace è venuto a farsi la scampagnata l'avevo i piracocca e glielo abbiamo dato se mangiavano i piracocca come se mangiavano i piracocca era più quello dice non mi facete vedere qui non me lo fate mettetelo nell'ambulanza che lo porto subito in ospedale io salgo andavo a la cabina vi aspetto là appena siete pronti mi facete segnale che lo portate nel vetro e io vi porto perché sono io accanavo con il ginocchio andavo scalone perché era troppo piccolo non ci arrivava accanavo con il ginocchio si teneva un dono sedile e poi ci mi salavo l'altro ginocchio poi lo pede si girava e si accanava e si chiudeva il sportello noi altri abbiamo aperto la porta di dietro dell'ambulanza signora Rosa mi stai sentendo come se sto rivivendo la cosa la cosa veramente incredibile giustamente quello là è mio cugino scalise scalise mi tocca a me di salire dall'ambulanza per accompagnarlo per primo deve essere vicino bravo deve stare vicino al congiunto al congiunto e accanavo sua moglie giustamente ma io sono la moglie io sono la metà la compagna la compagna a me mi tocca giusto giusto anche la moglie io che avevo accanato prima pensai ma mia mogliere io la posso lasciare qua la lasso accanare io la giungla lei se la deve portare però stava male certo e che sua moglie perciò ci buttai un frischio ci si croce a chiana e a chiana io come moglie e la moglie di astro erano tre giustamente per il corso di ospedalità il torrenese tutto capare che si sdegnava ma quando mangiava era saurdone lo potevamo lasciare a chiana non è giusto e chiana ma caro il torrenese giustamente il torrenese dice io la mia famiglia a lasso qua e chiana sono moglie 5 6 7 arrestavo figlio di astro dice ma io posso stare no no ma ci mancherebbe signora Rosa accanavo magari io Cirino e fila defo accanamo tutti signora Rosa erano stretti ma non è che l'ambulanza è fatta per portare 9 persone l'ambulanza porta il malato e un medico da fare una scampagnata da fare un viaggio st'ambulanza fatele più comodi basta chiamiamo signora Rosa noi che potevamo respirare come volevamo meno male che la cosa abbassi io ci disse al mio 3 tiratevi tutto e ritiratevi tutti i panzi tutti tutti all'ussismo tutti all'ussismo tutti andavano a vuoto va bene ci sono uno due tre scatavano la panza chiudono le sputelle sotto vuoto adesso stavamo tutto questo bravi potevamo ieri usavo da Germania perfetto arruavamo intatti magnifico erano come le cose sotto vuoto magnifico e ciò mi girai verso il chido dovitro e ci avevo a fare segnale non ci arruava e ci faceva così il chido metalliano faceva così no io avevo un'inev poi mi stirai tutto ci arrivai ten 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 ci potevano metalliano e mi dicevo perché ci si potevamo andare era il segnale questo carino scaffi il primo chilometro tutto fuori strada perché la strada era dissestata la strada era dissestata certo dopo che facciamo un chilometro un chilometro e mezzo che è successo non avevamo scordato altro il malato ma non è possibile perciò siete saliti tutti sull'ambulanza e avete lasciato il paziente aspetta quello voleva andare in ospedale aspetta finalmente franato dice che c'è ne scordiamo è morto ma c'è chi chi andrà una franata ma tutta mia ma capo sono scongiurute torniamo indietro e torniamo indietro pigliere a pigliaranti ma questo ce lo racconta la prossima puntata ci fermiamo qui primo maggio per adesso stendiamo un pelo veloce come dice lei il signor Littero Scalisi di nuovo insieme a tra poco alla prossima puntata allora vedremo domani come andrà a finire questa storia del primo maggio non vi anticipiamo nulla restate sempre in nostra compagnia perché per oggi abbiamo terminato e allora ora che facciamo facciamo sempre alla nostra maniera chiudiamo di nuovo insieme l'accompagno io eccomi qua dottor Larosa io torno a casa buonanotte buonanotte Nadia ci vediamo domani signor Litterio lei? no io mi fermo tanto domani potassi che stanotte dormo qua va bene buonanotte allora buonanotte a domani a domani sai salvo questa sera voglio recitare leggere un po' un pezzo tratto da un'opera teatrale che si chiama cronaca di un uomo un pezzo teatrale scritto dal bravissimo giornalista scrittore Pippo Fava allora vengo vengo perché mi fa piacere raccontare con te quello che stiamo per fare quindi Pippo Fava è questo scrittore questo giornalista che a Ime fu assassinato dalla mafia nel 1984 esattamente nel 1984 proprio di fronte al teatro Verga alla sede dello stabile sì e il teatro stabile dopo qualche anno mise in scena questo spettacolo e mi pare che le musiche sì era cronaca di un uomo e le musiche sono state realizzate da un altro amico da un grandissimo artista che era Nino Lombardo quindi applauso per ricordare lo facciamo molto volentieri grazie Enrico per aver scelto questo pezzo applauso per ricordare Pippo Fava ucciso dalla mafia nel 1984 e anche Nino Lombardo grande artista con il quale abbiamo lavorato tante volte grazie cronaca di un uomo prego dicevo che cronaca di un uomo è tratta da questo pezzo che andrò a recitare è tratta da cronaca di un uomo questo dramma scritto da Pippo Fava il protagonista di questo dramma è Gaetano così si chiama è un giovane giovanissimo giornalista che purtroppo viene licenziato dal giornale presso il quale lavorava per cui lavorava dopo più di un anno di disoccupazione Gaetano cresciuto con l'alito dalla mamma cresciuto sotto l'ala protettrice della mamma una mamma che era diventata il suo mondo il suo universo e Gaetano era il mondo e l'universo di sua mamma però è costretta a partire e passa l'ultima serata prima di andare alla stazione a prendere il treno che lo condurrà in Germania quindi emigrava in Germania la passa girovagando per Catania centro storico insieme ad alcuni suoi amici quasi a voler fotografare alcuni angoli della città per portarli impresse nella propria memoria questa città che lui amava e che però dalla quale si sentiva in qualche modo respinto perché costretto appunto ad emigrare torna a casa per prendere la valigia andare in stazione e salutare la adorata vecchia madre che nel contempo si era assopita seduta aspettandolo perché lui aveva fatto un po' tardi nella sua vecchia poltrona quando Gaetano entra in casa ecco che cosa accade mamma 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 ma che fai dormi dormi ma come io ero venuto per stare ancora qualche minuto cutia per parrare un po' cutia e tu dormi ti ricordi mamma quando era picceriggio ogni volta che uscivo con la bicicletta appettia era una malattia mi ricordo che ti affacciavi dalla finestra mi guardavi mi dicevi attendo Gaetano mi diceva Gaetano non correre a cura più macchine non picchiare freddo Gaetano non sa mai sudi la malattia e ora mamma ora che parto per la Germania che tu non sai manco quanto è lontana tu dormi dormi come se io stesse nascendo a fare quattro passi con gli amici ciao mamma esco ora torno sai ma ma io non te l'ho voluto dire in queste settimane ma la Germania è proprio come si dice nebbia freddo a volte anche 30 gradi sotto il zero la gente che parla un'altra lingua una lingua che tu non capisci io che non ti capisco che non ti voglio capire gente che non ci interessa niente così dico non si se cambi se muori su senza un amico senza di ti mamma forse questa è l'ultima volta che ci vediamo capisci e tu dormi mamma no 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 non ti sveglio tanto che ti sveglio a fare ormai che cosa ci possiamo dire che cosa mi puoi dire già lo so me lo immagino mi diresti attento Gaetanozza mamma attento durante il viaggio non pigliare freddo Gaetano mi raccomando appena arrivi scrivi subito ciao mamma ciao mamma da un subbacio non ti preoccupare ci vediamo tra un anno già tra un anno tra un anno potresti non esserci più tu mamma se vecchiarete vedete una ditta che spingola sia una canneletta addumata basterebbe una corrente un soffio un alito e finiva mamma mamma come abbiamo potuto buttare via le nostre vite buttate via preoccupandoci di cose fatte di niente cose senza importanza te ricordi mamma non so se le ciaga si bagnata a fine esce lasse l'aperta quante volte te lo devo dire la gravatta nuova cammisa pulita chi tuca pensa a gente e ora siamo qui mamma e non sappiamo che cosa ne sarà di noi voglio dire ci rivedremo ci rincontreremo ancora dopo questa vita oppure oppure mamma ne salutiamo ora per sempre ti ricordi mamma quella volta che tornai dal cinema e ti trovai che piangevi ti ricordi me lo confessasti dopo piangevi perché io ero uscito senza salutarti con un bacio sai mamma io penso che tutto qui come è successo una vita è stato tutto senza importanza non lo capivo lo capisco ora parole parole solo parole centinaia migliaia milioni di parole mamma milioni di parole io parto io parto e partere per forza mamma perché qua non si può dire avanti qua non c'è travaglio qua non si sa come fare sai quante volte mi è capitato di pensare papà ce l'ho davanti agli occhi chissà che cosa sperava per mia chissà quali progetti avevo papà mia quale aspirazione me l'hai ancora avanti all'occhio lo vedo lo sento sento la sua voce poi un giorno presto presto ma troppo presto un giorno morì e io ero troppo piccolo per capire fino in fondo mi pigliai di collera mamma si lo sai perché capì che per 15 giorni non potevo andare al cinema mamma ogni volta che mi succedeva qualche cosa di brutto a mia in tutta la vita la collera la boccata amara il dispiacere specialmente in quest'ultimo anno umiliazioni licenziamenti terremoti pensavo sempre a tia in quel momento pensavo sì va bene ora torno a casa e c'è mia mamma che mi aspetta e ora parto pa' a Germania dove non c'è nessuno che mi aspetta solo solo ciao mamma ciao ci vediamo tra un anno ci vediamo ci vediamo quando vuole lo signor emozionante commovente perché bellissima la storia che tu ci hai recitato e poi c'è anche il ricordo lo ricordiamo ancora una volta di Pippo Fava ucciso dalla mafia nell'84 e di Nino Lombardo abbiamo ascoltato anche la sua bella musica grazie Enrico Varneri grazie allora abbiamo terminato eh beh oggi tanto divertimento come sempre poi un finale forte che ci fa riflettere che ci porta così è la vita eccomi no ci porta a letto con una riflessione in più allora sentiamo i protagonisti di questo nostro appuntamento li vediamo li presentiamo cominciando da Rosario Marco Amato eccolo e poi sempre protagonista in ogni puntata la mia collaboratrice personale Nadia De Luca anche oggi sempre molto elegante grazie perché indossa così come faccio anche io gli abiti di Elvira boutique di Sortino e poi dopo aver smesso i panni di Litterio Scalisi ha indossato quelli di Enrico Guarneri ma è sempre lui Enrico Guarneri Litterio grazie signore e signori salvo la rosa grazie vi lasciamo subito alla nostra sigla che è interpretata da Litterio Scalisi che dice una frase che voi tutti conoscete ormai da tempo a mia unni michiovi mi scidica buonanotte grazie grazie c'è chi chiangia e chi si pina c'è chi chiara sovrantina che ove c'este va caciù c'è chi sbatte per il nudo chi sorpassa e fa cornuto c'è chi ricco e mi rotuo c'è chi va dallo psicologo e poi chi si pende e si fa a monaco con protesta fa benzina c'è chi si la tacarina c'è chi è sempre in mezzo ma tanto a mia tutti a mia vai unni michiovi mi scidica a mia mi rilassa la musica dice un proverbio a cotte rupa rupa ci vando mezzo piega non ci guppa e canto a mia unni michiovi che fa la gente a gentilossa sa rusica sogno tranquillo e faccio una bella vita e dove sta straiato sui come una zazzamita e canto a mia dove mi piove mi scivola grazie buonanotte 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 Grazie.